Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2 Siamo su Far Cry 3 ed oggi vorrei provare a fare una missione secondaria Perché di solito faccio sempre, non lo so, missioni di caccia, queste cose qui Invece oggi vorrei fare una missione secondaria Quindi niente conquista di un avamposto, niente missione di caccia, niente assassino Oggi ci facciamo proprio una missione per aiutare qualcuno Facciamo i bravi, eh? La missione è lì davanti a noi, dovremmo raggiungerla prendendo questa strada Se non erro Oh, grazie ragazzi, mi avete fatto notare che c'è una strada qua, non l'avrei mai notata altrimenti Ci mettiamo in relax e ci godiamo il viaggio Mentre ci godiamo il viaggio io vi ricordo che Siamo vicini Io vi ricordo che questi gameplay li iniziate a fare con la webcam Perché io e Redez abbiamo deciso di iniziare a farli così Forse vi piace anche di più vedere le nostre espressioni, non lo so Ok I cani di questa zona sono molto feroci, si muovono in branchi Sai, qualche anno fa il mio cane si è preso la rabbia Mordeva di tutto, si spaccava i denti, schiumava, abbaiava, faceva il pazzo Va bene, non è assolutamente un problema Figurarsi se per me una cagna con la rabbia è un problema Considerando che ho il mio fucile a pompa super, super sgravo, mitico Non avremo assolutamente un problema a liberarci di una cagnetta con la rabbia Rogna, rabbia, finchia Che cazzo è successo? Per un attimo ho mirato il nulla Cagnottoni? Così Oh cazzo, mi sono cagato addosso Ragazzi dovresti essere idrofobi, avete la rabbia, non dovete venire in acqua Ok Eccola lì, eccola lì Tu sei la mamma rabbiosa Sì, è andata È andata Senza questo fucile sarebbe stato veramente difficile ragazzi Perché il suo fucile è potentissimo E tu? Ciccio Sto disboscando tutto Eccomi Ti ha salvato questo palo che non so perché non si è saltato in aria Ubisoft a volte Mi ha fatto fare un po' di riflessioni Ti hanno morso graffiato? Nooo Mi hanno squaiato un braccio a morsi però Non mi hanno morso, tranquillo Oh, una bella missione, un bel assassino Anche gli youtuber starnutiscono Prendi onore ai Rakyat usando un pugnale per uccidere un pirata rifugiato in un tunnel C'è una macchina Fortunatamente perché se no non avrei saputo come arrivare Sul posto senza farvi due palle così Però sembra che io sia già arrivato Eravamo già molto vicini Sì, hai ragione Arca troia, oh, che palle E muori Allora, questo è il tunnel Ok Nooo Sì L'ho accoltellato proprio così a muzzo ma è andata bene E qui possiamo esplorare il bellissimo tunnel Che poi è un bunker In realtà è un bunker, non è un tunnel Però un voletto da questa altezza è sempre cosa buona e giusta Sì, sì, in questa zona ci siamo stati spesso e volentieri Solo che l'isola è molto grande e faccio fatica a ricordarmi tutte le stronzate che ho fatto Piano di racket Ok Non c'è voluto niente a fare questa missione Direi che possiamo Missione scimmiesca Queste non le ho mai fatte E facciamo insieme? Andiamo a vedere la missione scimmiesca che cos'è Io direi di farci prima l'officina navale Va, conquistiamo tutto quello che c'è da conquistare E poi nel prossimo gameplay magari ci facciamo una missione scimmiesca La missione scimmiesca avviene dalla versione completa, totale di Far Cry 3 Alla quale, se non erro, è stata aggiunta poi un'altra versione Insomma, io odio i DLC più di ogni altra cosa ragazzi Perché tra l'altro ti fanno perdere anche il senso di quello che hai fatto Cioè hai finito un gioco ma non hai finito un cazzo Deve ancora fare qualcosa Arriviamo sul posto e conquistiamo quest'avamposto Fa rima ma una rima brutta Vabbè dai Ho capito Vabbè se mi lancio da qua Potrei tecnicamente arrivare molto molto vicino all'avamposto Magari se non mi pianto di faccia contro le palme è anche meglio Ok Ho fatto un'animazione stranissima Sì cazzo Ciao ciccio Ciao 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 Muori Andato Eh, c'è qualcun altro? Sembra di sì perché l'avamposto non l'ho conquistato in effetti Oh 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 Meno male Meno male che l'ho visto Io non capisco dove siano gli altri Cerco di attirarli Ah eccolo l'ho visto Che cazzo è successo? Ho aperto la tuta l'ora Mi sono piantato di faccia contro il bordo della casa Purtroppo non ho fatto una gran manovra Quanto pare ho fatto più una stronzata che una gran manovra Via 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 vedere, non mi devono vedere almeno fino a che... ecco, adesso mi possono anche vedere non me ne frega niente. Devo far perdere le mie tracce perché adesso sanno esattamente dove sono. Quello è andato. Occhio a quello, eh! Chi c'è ancora nel buon posto? Oh! Oh, cazzo! Lanciarazzi. Stanno coi lanciarazzi. Basta fare le cose da lontano, adesso vengo là e ti apro il culo come una mela proprio. Sì! Oh! Ma ha tirato un lanciarazzi in faccia? Che cazzo è successo? Non lo so, sono scivolato. Oh, quella zoccola! Madonna ragazzi, c'è un casino! Sì! Così! Ho conquistato l'avamposto al cazzo ma ci sono ancora pirati in giro. Non lo so, l'ho conquistato così grazie ai punti, ho vinto per K.O. tecnico. Ok, su questa brutta delusione ragazzi noi ci vediamo al prossimo Gameplay. Yeah!